Ma voi lo sapete che esistono le nostre mosche? Esatto, avete capito bene. Questi noiosi insetti che vengono a trovarci sempre durante la primavera e l'estate, ronzandoci intorno e lasciandoci stare, che sono attrati dalla luce, che volano sul cibo e non dico dove altro si posano di solito. E noi con le palette cercare di schiacciarli e mandarli fuori casa. Proprio loro hanno dei luoghi in giro per tutto il mondo dove vengono fatte crescere su scala industriale. No, non sto scherzando, sembra un incubo. Questi posti si chiamano biofabbriche e si occupano di allevare e rilasciare in maniera massiccia questi insetti, ma non si tratta di mosche qualunque. Stiamo parlando di una vera e propria produzione in massa di insetti, in particolare di maschi, che vengono sterilizzati per poi essere reinseriti nell'ambiente. Questa metodologia prende il nome di tecnica dell'insetto sterile o SIT. Ne avete mai sentito parlare? Pensate che viene utilizzata ormai da circa 60 anni in sei continenti per fronteggiare diverse emergenze dovute a insetti parassiti che danneggiano l'agricoltura locale. Ma quindi come si fa? In primis si isolano i maschi fin dallo stadio di uovo, si allevano e una volta concluso lo sviluppo vengono in radiatico raggi X e gamma per renderli incapaci di riprodursi, per poi essere rilasciati nei campi mediante mezzi aereo di terra. La vita dell'insetto di per sé continua normalmente, sta benissimo, può volare, può mangiare, può accoppiarsi, l'unico impedimento è che non potrà generare figli. Quindi potendosi accoppiare con le femmine in natura, ma senza generare una prole, porterà a lungo andare al controllo della diffusione di questa specie in una determinata area. Quindi questi insetti speciali possono competere con il loro amore e con gli insetti normali, bloccando in questo modo le varie invasioni dei campi e eliminando piano piano i danni alla frutta e quindi all'intero settore agricolo. Beh, adesso una neuroscienza delle mosche non fa più tanto paura, no? In pratica l'insetto sterile diventa l'insetticida 3.0, migliore per l'ambiente perché non inquina, non crea forme di resistenza come accade per i pesticidi, insomma diventa l'insetticida ecologico per eccellenza. Chi non lo vorrebbe? Mosche che aiutano a sbarazzarci di altre mosche. Pensate che questa tecnica viene usata anche in Italia, proprio nel nostro paese. L'esempio più clamoroso riguarda la ceratitis capitata, la mosca mediterranea della frutta, originaria dell'Africa, la quale ha ben pensato di cambiare clima del suo paese umido e caldo e cambiare residenza e trasferirsi nei campi di mele in Trentino. Ma non preoccupatevi perché questo insetto viene ancora controllato tutt'oggi da questa metodologia, dalla tecnica SIT che sta sbaragliando nettamente la concorrenza. Forza agricoltori, accorrete numerosi, l'insetto sterile 3.0 solo nelle migliori biofabbriche.